Cadmio nella piana di Venafro. I proprietari dei terreni contaminati hanno disposto a loro spese ulteriori analisi. Ad un mese dal report della Procura della Repubblica di Sernia, da cui è emerso che un'area di poco meno di 122 mila metri quadrati, ricompresa tra i comuni di Venafro, Pozziglia e Sesto Campano, potrebbe contenere quella o altre sostanze tossiche, gli agricoltori vogliono vederci chiaro. I dati presentati, aveva specificato il procuratore capo, nascono da campionature a macchia di leopardo che devono essere riverificate e messe insieme. Di lì il monito di Fucci, testuale alla politica e alle istituzioni competenti, per proseguire nella verifica dell'eventuale persistenza o allargamento dell'inquinamento in questa vasta area. A che punto siamo? I soggetti a cui faceva riferimento il procuratore si sono effettivamente attivati per le verifiche del caso? La questione è cruciale. In primis naturalmente ai fini della tutela della salute pubblica, in un'area che, ahimè, nonostante l'assenza di un registro tumori, a giudicare dalla provenienza dei pazienti del reparto di oncologia del Veneziale è da tenere sotto particolare controllo. Subito dopo, perché in quella enorme piana vivono, danno lavoro e coltivano prodotti di qualità un centinaio di imprenditori agricoli. Sono una risorsa fondamentale per il territorio. Molti, anche tra quelli non direttamente colpiti dalla vicenda Cadmio, hanno già subito pesanti danni di immagine e al contempo economici. I clienti di sempre ci hanno già detto che non acquisteranno più da noi, lamentano. Ma come contemperare i due aspetti, quello della salute e quello dell'economia, da cui dipende il futuro stesso di quel territorio? Beh, bisognerebbe innanzitutto verificare la reale sussistenza e poi eventualmente la dimensione del problema. Di qui, senza attendere le istituzioni, l'iniziativa degli agricoltori che hanno subito il blocco delle coltivazioni, di cui abbiamo detto all'inizio. Tutti gli altri, non direttamente toccati, restano in attesa. Il tempo però comincia a scarseggiare. Presto bisognerà programmare e investire sulla nuova stagione agricola. I controlli del caso vanno fatti al più presto. L'incertezza in questa fase sta già facendo danni.